Il cappottino Il cappottino Il cappottino Il cappottino Un bel numero Si Imposti Il cappottino Il cappottino Animato Dove vuoi andare vai. Dove vuoi tu. Basta che vai giù. Non è pericoloso. No, se ci portavo era pericoloso. Dritto. Dritto, giù dritto. Puoi andare un po' a sinistra, puoi andare a destra, però tendenzialmente è dritto giù. Vai. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo qua a sinistra. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.